Buon pomeriggio a tutti e bentornati, come dico sempre, sui nostri canali, canali che continuano a crescere. Su Facebook siamo oltre 1.650.000 iscritti e su YouTube, io poi sono particolarmente legato al canale YouTube, oltre 216.000 iscritti. Ho chiesto ad Alessandro Ozzini, che è un mio amico, quindi non lo nego, di intervenire in questa diretta per varie ragioni. Uno, perché trovo sempre interessante quel che lui sostiene e dice. Due, perché trovo sia una persona estremamente coraggiosa. È evidente che io e Orsini abbiamo su molte questioni delle idee simili, ad ogni modo queste dirette ci consentono di poter approfondire determinate tematiche che è impossibile approfondire in televisione per varie ragioni, per i tempi e poi per continue provocazioni che arrivano da interlocutori che al posto di analizzare dire la loro, preferiscono insultare coloro che non la pensano, appunto come loro, posto che abbiano un pensiero. E soprattutto tendono a svilire un ragionamento. Chi era contrario alla guerra in Afghanistan era filo talebano, chi era contrario all'intervento americano in Iraq, evidentemente gli piacciono alle armi di istruzione di massa che non c'erano. Chi era contrario all'intervento in Libia era pro-Geddafi. Chi ha giudicato fallimentare la strategia a Nato e dell'Unione Europea in Ucraina dal primo giorno e francamente io e Alessandro siamo due che l'hanno fatto. Io anche in virtù di un viaggio che feci di varie mesi in Russia durante il quale raccontai la Russia reale quando Repubblica parlava di un paese del tutto diverso dal paese reale o quando i principali giornali italiani raccontavano di un esercito russo intento a combattere con le pale e Alessandro Orsini ha fatto sempre analisi del genere. Tra l'altro le pubblica ogni giorno delle analisi sulla guerra in Ucraina nel sito del quale è direttore che è sicurezza-internazionale.com vi invito ad iscrivervi a seguire le analisi appunto di Alessandro Orsini e di tutti i suoi collaboratori. Vi dicevo chi sosteneva questo veniva considerato collaborazionista del carmelino Filoputin. Sappiamo qual è il meccanismo e lo stesso meccanismo è stato anche portato avanti rispetto a quella che io non definisco guerra a Gaza ma carneficina sui civili a Gaza ovvero a quindi stai con Hamas quindi ti piace il terrorismo. Per me non è mai stato l'obiettivo di Israele distruggere il terrorismo perché con questa azione criminale stanno soltanto supportando e anzi alimentando Hamas ma ci arriveremo. Anche Alessandro Orsini che ripeto per me è una persona estremamente coraggiosa ha una pagina di YouTube importante è arrivata oltre 112.000 iscritti segno che questi contenuti riescono a far breccia e che c'è tanta voglia di informazione contro informazione e tante persone hanno capito che la televisione per verità io ci vado sempre volentieri per l'amor di Dio però in tv non sempre si riesce appunto ad approfondire determinate tematiche dunque ti ringrazio benvenuto Alessandro partiamo dalla questione ucraina perché io leggo prime pagine dell'Economist Putin sta vincendo oppure leggo articoli relativi a i dati drammatici economici soprattutto in Germania la Germania oggi è in recessione la locomotiva d'Europa in recessione dunque la Russia doveva crollare non è crollata l'Europa sta in serie difficoltà poi difficilmente delle conseguenze negative non arriveranno dalla crisi economica in Germania anche in Italia dato che il tessuto economico soprattutto nel settentrione italiano è estremamente legato a quello tedesco oppure leggo di dichiarazioni di Draghi per me vergognose colui che ha supportato la strategia Nato e che anche alle Nazioni Unite all'Assemblea Generale profetizzò l'imminente crisi caduta economica finanziaria della Russia dire l'Europa è in crisi sono diversi anni che la competitività non esiste più cioè coloro che sono stati responsabili di questa crisi politica geopolitica economica e anche militare visto il fallimento in Ucraina eh appunto da parte dell'Europa oggi addirittura vengono eh descritti come possibili depositari di soluzioni addirittura si pensa a Draghi come futuro presidente della Commissione Europea tutto questo sta avvenendo appunto in in Europa e quindi lascio a te la parola ringraziando te ancora una volta per la presenza e per il coraggio chiedendoti cosa sta accadendo oggi in Ucraina anche eh sul campo beh intanto Alessandro grazie mille dell'invito sono molto contento di essere qui credo che l'ultima volta eh credo di essere intervenuto l'ultima volta sul tuo canale circa due mesi fa e da allora fino ad oggi la situazione degli ucraini è andata sempre peggiorando d'altronde la situazione degli ucraini peggiora ininterrottamente dal 24 febbraio 2022 e purtroppo è destinata ad aggravarsi tragicamente nel 2024 adesso cercherò di spiegare il perché eh per motivi di sintesi partirò direttamente dalle conclusioni diciamo che su una scala da uno a dieci una scala di tragicità da uno a dieci la situazione sul campo degli ucraini si aggira intorno al nove nove o dieci cioè una situazione ipertragica in cui gli ucraini sono sulla difensiva su tutto il fronte e arretrano un po' alla volta su tutto il fronte quindi in Ucraina per l'esercito ucraino è un continuare a è un tirare ad andare avanti e proviamo ad analizzare oblast per oblast quello che sta accadendo la situazione a Zaporizia è eh disastrosa è disastrosa perché il 22 agosto del 2023 a costo di una hecatombe di soldati Zelensky era riuscito a conquistare questo villaggio di robotine e ehm per poi marciare verso Tokmak da lì verso Melitopol e riconquistare il mare spaccando in due l'esercito russo impedendo così alla Crimea di ricevere rifornimenti dalla madrepatria e poi questa era la strategia della Nato alla fine sarebbe caduta anche la Crimea esangue senza più rifornimenti assediata dagli ucraini ebbene dal 5 giugno del 2023 giorni in cui inizia la controffensiva Ucraina al 22 agosto di quello stesso anno quello che gli ucraini riescono a conquistare praticamente niente il villaggio di robotine e restano inchiudati lì per sempre con un dato che rende ancora più tragica questa situazione i russi mentre ti parlo sono a ridosso del centro urbano di robotine quindi hanno deciso di riconquistare anche quel niente che Zelensky aveva conquistato il 22 agosto del 2023 a costo di enormi perdite anche peraltro delle sue truppe migliori gli ucraini poi hanno cercato di aggirare l'ostacolo tra virgolette puntando verso Verbove e non sono mai riusciti a conquistare nemmeno Verbove perché hanno capito che Tokmak era una cittadina troppo fortificata e che sarebbe stata impresa vana provare ad assaltarla e parliamo adesso di Kherson l'oblast di Kherson una situazione tragica come nell'oblast di Zaporizia perché perché gli ucraini al prezzo di anche qui un'ecatombe di soldati e fatto ancora più grave hanno perso i soldati più addestrati le truppe scelte sono riusciti erano riusciti a creare questa testa di ponte nel villaggio di Krinki che si trova sulla sponda orientale del Kherson e che cos'è una testa di ponte una testa di ponte è una postazione costruita in territorio nemico avendo alle spalle un ostacolo naturale che chiaramente è stato superato generalmente un fiume sicuramente in questo caso il fiume Nipro gli ucraini progettavano poi di proiettarsi da Krinki in avanti sono rimasti bloccati a Krinki massacrati tutti i giorni mentre ti parlo i russi sono entrati a Krinki e non riesco a immaginare come gli ucraini potranno resistere ancora a lungo quello che mi aspetto quello che diciamo gli studiosi più accreditati si aspettano e che nel volgere di un tempo non troppo lungo gli ucraini abbandoneranno completamente quella testa di ponte perché ad aggravare la situazione degli ucraini a Krinki vi è un fenomeno ipertragico per l'esercito ucraino vale a dire il congelamento incipiente che diventerà sempre più sempre più grave del congelamento del Nipro quindi i droni hanno catturato una serie di immagini che mostrano che gli ucraini non sono i più in grado di far transitare mezzi militari soldati e tutto ciò di cui hanno bisogno per fortificare questa testa di ponte a Krinki perché una testa di ponte ha senso soltanto se poi viene trasformata in una piccola roccaforte dalla quale proiettarsi in avanti quindi una volta che tu hai stabilito la testa di ponte sei soltanto all'inizio di questa grande tragedia perché poi devi far arrivare a Krinki blindati mezzi pesanti soprattutto devi far arrivare la contraerea perché se non controlli i cieli la testa di ponte non ti serve a nulla infatti a nulla è servita perché i russi hanno continuamente bersagliato anche dai cieli questa questo villaggio Krinki appunto se ci spostiamo nel Donetsk la situazione è tragica nella stessa misura perché gli ucraini non sono mai riusciti chiaramente nemmeno a scalfire Bakhmut che Zelensky annunciava di conquistare prima della controoffensiva non soltanto Zelensky ma anche i principali media italiani tanti commentatori che erano così speranzosi così ottimisti circa l'esito della controoffensiva ucraina non sono mai riusciti a scalfire Bakhmut e anche lì sono sulla difensiva perché sono i russi che attaccano adesso e nei pressi di Bakhmut per scacciare gli ucraini laddove questi siano riusciti a creare delle piccole fortificazioni ad Avdibka siamo sempre nel Donetsk stesso discorso mentre ti parlo proprio notizia degli ultimi minuti Avdibka è bombardata dai russi da nord e da sud e Marinka è stata riconquistata sempre nel Donetsk il 25 dicembre del 2023 e quindi poco tempo fa e anche da lì i russi si stanno proiettando in avanti se ci spostiamo nell'oblast di Kharkiv quindi più a nord anche lì la situazione per gli ucraini è molto tragica perché Putin li sta bersagliando continuamente dai cieli e sta ammassando grosse quantità di truppe perché ci aspettiamo a un certo punto uno sfondamento in quella direzione in quanto la Russia ha dovuto innalzare i propri obiettivi strategici a causa del grande investimento che la Nato ha fatto anche nell'oblast di Kharkiv e nell'oblast di Sumi particolare dall'oblast di Kharkiv partono gli attacchi ucraini contro la città di Belgorod contro il territorio russo e perciò Putin aveva iniziato la guerra con una serie di obiettivi siccome la Nato ha fatto un investimento enorme per sconfiggere la Russia sul campo la Russia ha dovuto innalzare questi obiettivi territoriali perciò dal mio punto di vista questa è la tesi che ho esposto in molte occasioni il rischio è che l'Ucraina si ritrovi non con cinque regioni in meno vale a dire Crimea, Zaporizia, Kherson, Donetsk e Luasco queste ultime due che compongono il Donbass come sappiamo ma quantomeno con sette regioni in meno quindi la mia tesi è che Putin andrà a conquistare o cercare di conquistare questo è quello che emerge dai dati che provengono dal campo anche l'oblast di Kharkiv e l'oblast di Sumi. Quindi quando scusa ti interrompo quando Putin sostiene appunto un'iniziativa in Ucraina nelle nostre mani pensi che lui abbia ragione? Noi studiosi ci basiamo sull'evidenza empidica quello che proviene dal campo è che questa affermazione è corretta l'iniziativa in questo mano e in questo momento l'iniziativa è totalmente nelle mani dei russi gli ucraini sono sulla difensiva ma questo lo riconoscono anche i vertici dell'esercito di Kiev lo dicono noi siamo sulla difensiva anche se loro utilizzano questa espressione tecnicamente la chiamano difensiva attiva e giustificano l'uso di questa espressione con il fatto che ogni tanto conducono sono sempre loro parole che cito testualmente delle piccole incursioni quindi secondo i vertici dell'esercito ucraino loro è una difensiva attiva perché loro sono su una posizione di difesa attiva perché ogni tanto fanno dei piccoli contrattacchi contro i russi. Dunque ritieni che in questo momento Alessandro addirittura portare avanti un negoziato possa essere più vantaggioso che l'Ucraina stessa rispetto a quello che potrebbe accadere da qui al termine diciamo dell'inverno. Certo perché l'Ucraina andrà sempre peggiorando andrà sempre peggiorando per una serie di ragioni che sono numerosissime quindi per motivi di sintesi non potrò elencarle tutte e prima di elencare quelle principali devo aggiungere un altro dato molto tragico e cioè che la logica strategica indurrà Putin a puntare anche su Odessa perché il progressivo indebolimento dell'esercito ucraino fornisce a Putin un incentivo a puntare anche su Odessa e perciò il rischio è che alla fine non siano cinque oblast non siano sette oblast ma siano otto oblast perché a quelli che ho citato finora bisognerebbe aggiungere anche Odessa. Con il passare del tempo la situazione dell'esercito ucraino sarà sempre più tragica per moltissime ragioni io indico soltanto quelle principali. In primo luogo perché Zelensky non riesce a reclutare soldati. Tutte le mobilitazioni che Zelensky ha tentato negli ultimi mesi si sono tradotte in un gigantesco fallimento. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Zelensky non è riuscito ad arruolare 500.000 soldati. Molti ucraini scappano all'estero altri rimangono in patria per non essere arrestati e si nascondono. sempre questo è quello che dichiara il vertice di Kiev non sono informazioni che provengono come dire dai media russi. Questo è il vertice di Kiev che parla e che spiega. Il vertice militare di Kiev spiega anche che c'è stato un crollo del morale delle truppe ucraine perché per tante ragioni la più importante delle quali è che da quando è scoppiata la guerra il 24 febbraio 2022 a oggi. Questo è un dato che non viene mai riportato dai media italiani il che fornisce un'ulteriore prova empirica della loro enorme corruzione. Gli ucraini non hanno mai vinto una battaglia che sia una. Non c'è mai stata una Mariupol in favore degli ucraini, una Bakhmut in favore degli ucraini, una Marinka in favore degli ucraini. Perché ho spiegato più volte ma anche su questo tuo canale che quando gli ucraini tornarono a Kherson non fu perché vinse una battaglia contro i russi ma semplicemente perché i russi non combatterono, si spostarono dall'altra parte del fiume perché gli ucraini riuscirono a colpire con un missile americano il ponte Antonovsky che collega le due parti della città e però non mi profondo in dettagli perché l'ho già fatto credo nel nostro incontro precedente quindi chiunque sia interessato magari può recuperare quel confronto tra me e te di circa un paio di mesi fa, credo che fosse la metà di novembre o qualcosa del genere. Questo dato dovrebbe far riflettere, quindi c'è un problema, Zelensky non riesce a reclutare soldati, tant'è vero che si è impennata vertiginosamente, e le statistiche da questo punto di vista parlano chiarissimo, il numero delle donne che Zelensky è stato costretto ad arruolare nell'esercito e quindi non riesce ad arruolare soldati. C'è stato un crollo del morale dei soldati ucraini per quanto ce ne siano tanti che continuano a combattere con grandissimo valore e con grande determinazione, ma quello che ci dice il vertice dell'esercito ucraino è che c'è stato un crollo del morale dei soldati ucraini. Il terzo problema dell'Ucraina chiaramente sono le armi perché i russi hanno sparato talmente tanti missili in questi due anni che quel poco di contraerea di cui gli ucraini disponevano adesso è ridotta in grandissima difficoltà perché gli ucraini hanno penuria di missili per intercettare i missili russi e questo lo ha dichiarato Zelensky perché alcuni giorni fa ne ho parlato diffusamente su sicurezza internazionale.com dove appunto tutti i giorni, quasi tutti i giorni analizzo la situazione in Ucraina e non soltanto, queste sono parole testuali di Zelensky, Zelensky con impeto contro l'Occidente con grande risentimento ha detto che gli occidentali sostanzialmente dovrebbero vergognarsi, proprio testualmente ha detto così, non so come faccio ad andare a letto sereni sapendo che se mi dessero altre sette batterie Patriot io potrei intercettare tutti i missili russi e il problema è che lui queste batterie non ce le ha e quindi subisce gli attacchi da parte dei russi. Poi un altro problema per cui la situazione in Ucraina di tra sempre più tragica nel 2024, ancora una volta l'ho già detto ma riprendo l'argomento perché è fondamentale, è il congelamento del fiume Dnipro, che i russi stanno attendendo il mese di febbraio, nel mese di febbraio nei studiosi ci aspettiamo che ci sia un grosso sfondamento e non soltanto noi, anche l'esercito ucraino quindi anche i vertici di Kiev si aspetta un grosso sfondamento da parte dei russi che stanno concentrando molte truppe e l'ipotesi più accreditata è che i russi vogliono aspettare il freddo intenso quando gli ucraini saranno più fiaccati nella capacità di resistere. Questa è la ragione per cui nei giorni scorsi, prima il Canada, poi l'Inghilterra e infine la Francia, infine per ora perché immagino che si aggiungeranno altri paesi, questi paesi hanno, questi governi hanno stretto degli accordi bilaterali con l'Ucraina di mutua assistenza militare perché in questo momento c'è il problema per la Nato di scavalcare l'ostacolo dell'adesione formale dell'Ucraina alla Nato e stanno cercando di aggirare questo ostacolo stabilendo rapporti bilaterali di cooperazione militare con l'Ucraina singolarmente quindi prima il Canada, poi l'Inghilterra, poi la Francia hanno firmato questo tipo di accordi con l'Ucraina per mandare una serie di messaggi non soltanto a Putin ma anche ai loro pubblici interni su cui non mi diffondo perché mi porterebbe via troppo tempo e poi c'è un problema economico perché la guerra all'Ucraina costa circa 10 miliardi al mese e il congresso americano in particolare il partito repubblicano ha bloccato questo fondo che Biden ipotizzava di dare agli ucraini di 61 miliardi e proprio due giorni fa Biden ha incontrato lo speaker repubblicano della Camera e è uscito a mani di voto e non è riuscito a sbloccare la situazione per ora questi 61 miliardi di dollari a Zelensky sono un miraggio e l'Unione Europea da parte sua sta cercando sotto fortissime pressioni da parte di Biden di aumentare le forniture militari all'Ucraina e anche il sostegno economico ma finora non ci riesce. Ursula von der Leyen ha detto che si imporrà all'Ungheria, l'Ungheria per ora blocca un fondo di 50 miliardi di euro all'Ucraina e Ursula von der Leyen ha assicurato che violando evidentemente le regole a fondamento dell'Unione Europea l'Ungheria sarà piegata e che quindi questi soldi arriveranno ugualmente all'Ucraina ma voglio spiegarti per quale motivo se anche arrivassero i 60 miliardi dagli Stati Uniti e i 50 miliardi dall'Unione Europea il destino dell'Ucraina sarebbe comunque ipertragico nel 2024 e del 2025. In primo luogo perché dall'altra parte la Russia sta facendo investimenti ancora più grandi nella difesa e in secondo luogo perché costando la guerra dell'Ucraina circa 10 miliardi al mese se tu fai i conti 60 miliardi più 50 miliardi ti servono per campare 11 mesi e guarda caso è proprio il tempo che ci separa dalle elezioni americane che si terranno alla fine di novembre del 2024 e il problema di Biden come ho spiegato più volte e questa è la mia controtesi rispetto alla tesi dominante in Italia e la tesi dominante in Italia e che Biden vorrebbe subito un accordo di pace con Putin a mio giudizio questo è assolutamente falso e comunque i dati che provengono dalla Casa Bianca smentiscono questa tesi e invece a mio giudizio Biden ha disperatamente bisogno che la guerra vada avanti perché non può permettersi di affrontare una campagna elettorale con le immagini dell'Ucraina sconfitta perché chiaramente qualunque accordo di pace con la Russia implicherebbe una secca sconfitta dell'Ucraina perché non potrebbe non essere un accordo di pace basato sul trasferimento alla Russia di ampie porzioni del territorio ucraino quindi sostanzialmente l'Unione Europea diciamo più che altro sta finanziando la campagna elettorale di Biden con questi 50 miliardi di dollari tra l'altro Biden è contento di poter avere come possibile avversario Trump sembra incredibile ma è così proprio perché ritiene che Trump sia uno dei pochi avversari agitando lo spauracchio dicendo guardate altrimenti vince lui un pazzo capace appunto di sconfiggere perché altrimenti Biden difficilmente in condizioni francamente psicofisiche di affrontare una nuova presidenza negli Stati Uniti dell'America da come diceva Alessandro dal canto loro i repubblicani che sono divisi ma comunque vogliono vincere sanno che evitando appunto di sostenere finanziariamente l'Ucraina qui alle prossime elezioni presidenziali spingendo gli europei a farlo quindi spingendo gli europei a metterci soldi i denari che provengono dalle nostre tasse potrebbero appunto anche rivendicare questo successo interno come dire grazie a noi gli Stati Uniti dell'America non stanno più alimentando un conflitto che non si può vincere e come diceva Alessandro ai politici europei gli interessa da un lato ovviamente sempre obbedire agli ordini della Casa Bianca quindi esattamente finanziare la campagna elettorale di Biden sperando che Biden vinc e possa sconfiggere Trump perché è altamente probabile che Trump che su Gaza farebbe ancora di più una carneficina questo è quello che io penso ma probabilmente un accordo con la Russia appunto possa farlo perché questo rappresenterebbe proprio la fine eh della diciamo di di molti anche i leader politici europei che hanno obbedito alla Casa Bianca per due anni andando contro tra l'altro l'interesse europeo evitando di eh supportare un'idea di negoziato quando era ancora possibile farlo e quando sarebbe stato molto più conveniente all'Ucraina in primis ma anche chiaramente all'Unione Europea eh sarebbe fallimentare per loro dover appunto ehm registrare un cambio di linea da parte della Casa Bianca e poi ovviamente c'è l'interesse di alcuni politici europei ad arrivare eh con la come dire un po' con la faccia più pulita alle prossime elezioni europee no? Piuttosto che come diceva Alessandro vedere un tracollo dell'Ucraina cioè è veramente cinico questo discorso io ritengo che eh della lotta di alla di civiltà dello scontro tra bene e male così c'è stato presentato questi due anni il conflitto in Ucraina ai leader europei non interessa nulla non pensano minimamente che si che siamo che abbiamo a che fare con uno scontro di civiltà l'Europa contro il nuovo Hitler sono scemenze hanno obbedito ai diktat americani perché l'Europa soprattutto oggi con l'uscita della Merkel è sempre di più un protettorato nordamericano e e questo si vede banalmente anche dall'atteggiamento dei media occidentali in particolare quelli italiani no? Zelensky era l'uomo dell'anno l'uomo invitato dovunque appena parlava a Zelensky i prime pagine i primi titoli nei telegiornali oggi trovate le dichiarazioni di Zelensky in quattordicesima quindicesima sedicesima pagina cioè quello che c'è stato scritto come uno scontro di civiltà il bene contro il male occhio che Putin è pronta a invadere la Polonia oggi non sta più nelle prime quindici pagine dei giornali o nei titoli dei principali telegiornali non se lo fila più nessuno Zelensky non si fila più nessuno l'Ucraina ma questo è un atteggiamento vecchio e stravecchio pensate agli americani cosa hanno fatto in Afghanistan o quando hanno abbandonato Saigon no? quegli scontri anche la guerra in Afghanistan scontro di civiltà poi sono scappati da Kabul lasciando il paese in mano ai talebani anche più armati di prima è il solito atteggiamento oggi c'è l'altro conflitto infatti ci spostiamo anche lì ovvero la polveriera in Medio Oriente e ti chiedo a te cosa sta accadendo a Gaza io mi sto dedicando anima e corpo alla questione palestinese da tanti tanti anni tra l'altro ne approfitto anche per fare un po' di pubblicità un lavoro Alessandro che a me personalmente mi dà tanta soddisfazione non pensavo che mi sarebbe piaciuto così tanto il teatro politico ho scritto un monologo sul caso Assange con il quale unisco eh i conflitti passati Afghanistan Iraq e Libia la storia della prima repubblica eh quando avevamo dei leader politici con tutti i limiti o degli uomini di stato come Enrico Mattei infinitamente più autonomi e indipendenti di quelli che abbiamo oggi leggo tutto questo alla guerra in Ucraina chiaramente alla carnificina di Gaza al compresso militare industriale e finanziario americano le grandi fabbriche di armi che fateci caso sono eh quelle che spingono per l'invio di armi in Ucraina e sono le stesse che producono i principali armamenti non solo perché l'industria bellica israeliana è potente però i principali aerei utilizzati da dalle forze armate israeliane per eh distruggere Gaza per raterno a solo Gaza F-16 F-15 F-35 sono queste le imprese Logan e Martin Boeing eh General Dynamics le principali fabgeri di armi al mondo per lo più nordamericane sono le stesse che stanno producendo le armi che vengono utilizzate anche sulle cavie palestinesi a Gaza che sono state inviate negli ultimi due anni in 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 Ucraina ti dicevo appunto sarò a Modena il 27 ma è tutto esaurito sarò a Firenze eh per chi volesse venirmi appunto ad ascoltare a teatro al teatro Puccini mercoledì 31 gennaio al 21 prima è andato in sovraimpressione chiedo di rimetterlo eh un un articolo che riguarda Netanyahu Assange Alessandro sosteneva che l'obiettivo delle guerre di oggi non sia la vittoria ma farle durare il più a lungo possibile l'obiettivo è una guerra duratura non una guerra di successo disse Assange parlando della guerra in Afghanistan ecco lo stesso discorso potremmo fare della guerra in Ucraina che si sarebbe potuta eh chiudere addirittura non aprire all'inizio e questo lo raccontò un ex premier israeliano Bennett che disse che c'era l'opportunità di arrivare a un negoziato ma fu Johnson allora premier britannico a opporsi più lui di Biden ovviamente anche con il bene placito di Biden perché non era conveniente a Stati Uniti e Gran Bretagna la fine della guerra in Ucraina all'inizio oggi abbiamo un criminale eh come il premier israeliano Netanyahu che sostiene non ci sarà mai uno stato palestinese quello è il cuore il cuore del conflitto è il fatto che non non esiste ancora uno stato palestinese l'Italia non riconosce lo stato di palestina e dice la guerra durerà a lungo perché per varie ragioni geopolitiche finanziarie eh le multinazionali di interessi ma banalmente anche per ragioni spicciole fino a che vi sarà questo conflitto questa carneficina addirittura qualora ci fosse un allargamento del conflitto all'Iran già c'è no di fatto allo Yemen eh Israele bombarda da tempo perché io condanno totalmente ehm il bombardamento da parte iraniano iraniana del Pakistan o dell'Iraq e giustamente eh le autorità pakistane e irachene hanno richiamato gli ambasciatori perché è una netta violazione del diritto internazionale ricordo a tutti quanti coloro che si sono scandalizzati giustamente per queste violazioni del diritto internazionale sono costate anche vittime civili ad opera del del dell'Iran che Israele ha bombardato eh la Siria ma io ero nel nord della Siria Alessandro a portare l'anno scorso aiuti dopo il terremoto che ha colpito il nord della Siria e la Turchia e in quel momento mentre il nord della Siria perché la Siria è complicata ogni luogo è un mondo a parte però in quel momento mentre io ero nel nord della Siria eh in luoghi eh recentemente bombardati anche idlib luoghi anche frequentati da terrorismo islamico in quel momento Israele bombardava Damasco eh ma sono anni che bombarda Damasco eh va bene no se Israele bombarda addirittura la Siria o il Libano va bene se invece lo fa l'Iran violazione di diritto internazionale questo è il doppio standard io condanna i bombardamenti iraniani del Pakistan e i bombardamenti iraniani sull'Iraq hanno detto che hanno colpito una un centro del Mossad nel Kurdistan irachenio non non so se sia vero ma comunque hai bombardato un altro paese un paese sovrano quindi è una violazione di diritto internazionale e un crimine per me eh dove sono coloro che si sono scandalizzati negli ultimi giorni dove erano quando Israele da anni bombarda appunto la Siria lo fa da anni e l'ha fatto anche recentemente dopo il 7 ottobre ad ogni modo Netanyahu ti lascio la parola sostiene che la guerra dovrà durare a lungo proprio perché proprio una guerra duratura che a lui banalmente gli consente di restare al potere o anche restare libero perché eh sono molti coloro che pensano che qualora ci fosse un cessate il fuoco duraturo permanente ci fosse una svolta appunto rispetto alla carneficina eh con chiaro per me questa è la mia opinione intento genocidario su Gaza da parte israeliana probabilmente Netanyahu finirebbe in carcere questo è quanto e lascio a te la parola sulla situazione di Gaza magari anche con un un focus su quello che sta accadendo oggi nel Mar Rosso anche perché l'Unione Europea sta così si dice preparando una missione navale a supporto appunto a tutela diciamo del traffico marittimo in quel luogo il Mar Rosso minacciato dagli uti che eh si possono condannare ovviamente io eh credo che in questo momento non vi sia nulla di più drammatico al mondo ma forse gli ultimi quarant'anni della carneficina della strage di bambini a Gaza e è noto che eh coloro che si scagliano contro gli uti eh dimenticando quel che avviene a Gaza vogliono evidentemente eh permettere a Israele di proseguire con la loro con questa carneficina a te la parola dunque Alessandro riprendendo l'argomento del giorno è difficile stabilire quali sia perché ce ne sono tanti di fatti tragici che rappresentano il tema del giorno partirei dai missili iraniani facendo una premessa che eh dal punto di vista sociologico la deflagrazione di una guerra altera tutti i riferimenti normativi che cosa vuol dire vuol dire che quando scoppia una guerra non è più possibile condannare certi fatti con la stessa facilità con cui era possibile condannarli prima dello scoppio di una guerra che cosa significa questa premessa significa che perché la domanda è perché Birami ha lanciato quei missili contro l'Iraq e contro il Pakistan in realtà ha colpito anche il territorio siriano di cui uno stretto alleato quindi ha colpito tre paesi sostanzialmente ha colpito l'Iraq il Pakistan e la Siria e siccome a Gaza è in corso un genocidio siccome c'è una guerra scoppiata una guerra che non è soltanto una guerra tra Israele e Hamas e anche una guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran per ora una guerra ancora non guerreggiata ma c'è una guerra quindi secondo me minimizzare come fanno i media italiani dicendo è una guerra tra Israele e Hamas è sbagliato e veniamo all'Iran vediamo questo cambiamento del quadro normativo con cui noi pronunciamo giudizi eh di condanna morale come sia stato alterato da da genocidio di Gaza perché l'Iran ha tirato questi missili l'Iran ha lanciato questi missili per una molteplicità di ragioni più importante delle quali è lanciare un messaggio agli Stati Uniti perché l'Iran vive da decenni sotto la minaccia costante ed esplicita degli Stati Uniti ed Israele di una guerra contro l'Iran e siccome questa minaccia è diventata sempre più vehemente da quando Hamas ha condotto il suo attentato il 7 ottobre del 2023 l'Iran ha avvertito il bisogno di proteggersi facendo sfoggio della propria capacità missilistica. Ha colpito l'Iraq perché ha voluto far vedere che ha dei missili molto potenti e molto sofisticati molto precisi ha colpito il Pakistan con la stessa intenzione ha colpito la Siria per mandare lo stesso messaggio agli Stati Uniti e il messaggio è noi non siamo più l'Iran del 1979. Se voi attaccherete l'Iran noi attaccheremo per quale motivo? Perché l'Iran negli ultimi decenni ha sviluppato un arsenale missilistico che è semplicemente spaventoso e ha fatto questo grande investimento nella produzione di missili sempre più sofisticati quindi di grande e molto forte in quantità e in qualità perché non ha potuto investire a causa delle sanzioni in altri settori della difesa per esempio l'acquisto di aerei. Quindi ha dovuto fare un investimento laddove era possibile farlo i missili soprattutto perché i missili sono l'unico strumento di cui l'Iran disponga per spaventare gli Stati Uniti, Israele, cioè sostanzialmente per creare un deterrente. Questo è il primo punto fondamentale. Quindi quando noi diciamo che l'Iran ha sbagliato a colpire l'Iraq, il Pakistan e la Siria ovviamente questo è un punto di vista assolutamente condivisibile. In un mondo ideale non avremmo nessuna difficoltà a pronunciare questo tipo di condanna morale. Il problema è che l'azione dell'Iran deve essere eletta all'interno di un contesto di guerra dove l'Iran rischia di essere bombardato e dove l'Iran periodicamente subisce degli omicidi e dei bombardamenti perché non dimentichiamo che gli Stati Uniti sotto Trump hanno assassinato, che è chiara violazione del diritto internazionale nel traffico di Baghdad, nei pressi dell'aeroporto di Baghdad, il generale Soleimani e che Israele, nessuno lo dice in occidente, Orsini come può saperlo? Lo dico io. Israele ha assassinato gli ingegneri, i migliori ingegneri iraniani che erano impegnati nel programma nucleare perché l'Iran ha bisogno del nucleare anche per un problema energetico interno. Quindi alcuni dicono lo fa soltanto per la bomba atomica. Non è vero perché ha bisogno di sviluppare delle fonti energetiche alternative perché l'Iran è in una condizione disperata dal punto di vista economico, gli iraniani a causa delle sanzioni occidentali perché l'Iran ha un potenziale spaventoso nonostante le condizioni difficilissime in cui si trova a causa delle sanzioni e comunque la più importante potenza regionale insieme con l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita prospera perché è alleato degli Stati Uniti, l'Iran boccheggia, pensa se l'Iran si trovasse nelle stesse condizioni dell'Arabia Saudita di poter commerciare liberamente con tutto il mondo diventerebbe un paese molto molto più ricco e molto più potente di quanto non sia adesso. Scusami sono due elementi proprio per confermare il tuo ragionamento. L'Iran è il quarto ma qualcuno sostiene, addirittura terzo paese al mondo per riserve petrolifere. Quando ero in Iran stavano perlustrando un nuovo campo della zona di Harbos che si trova non lontano al confine iracheno. Il paese che ha la riserva petrolifera più grande al mondo è il Venezuela, altro paese considerato nell'asse del mare banalmente perché hanno nazionalizzato l'industria petrolifera e il secondo, se non erro, è proprio l'Arabia Saudita. Il terzo appunto è l'Iraq e il quarto è l'Iran, anche se c'è chi ritiene appunto che l'Iran sia il terzo. Io non so se ti ho mai raccontato, io ho fatto dei documentari in Iran, si chiamano Sentieri Persiani, in cui anticipavo determinate cose, anche lì mi hanno dato del filo iraniano. Io atterrai a Teheran poche ore dopo l'abbattimento d'opera dei pasdarani iraniani dell'aereo della Ukraine Airlines, temevano appunto che ci fosse un attacco statunitense e ci c'è stato un tragico, drammatico errore appunto da parte di Pasdarani. Questo perché pochi giorni prima gli iraniani avevano bombardato, attaccato, senza provocare vittime a una base statunitense in Iraq appunto come risposta all'omicidio di Soleimani. Io sono anche stato per due volte nel cimitero di Kerman, luogo tra l'altro dell'ultimo attentato, sono morti più di 100 civili, appunto in una zona verso il confine pakistano, verso il Belucistan, nella città di Kerman, dove nacque il generale Soleimani e ci andai a fare un reportage, l'ho scritto per il Fatto Quotidiano, è una parte del documentario 40 giorni dopo l'assassino all'opera appunto degli Stati Uniti di America, coordinato da Trump a Baghdad, di Soleimani, di altri uomini, di Pasdarani, soprattutto della brigata Al-Quds, cioè una forza di elite dei Pasdarani. Ti dicevo che oltretutto questi omicidi mirati da parte israeliana, commessi contro ingegneri, spesso anche civili iraniani, è una roba provata, ma gli omicidi da parte del Mossad e dei servizi segreti israeliani sono trovate informazioni su internet facilmente o libri al riguardo e c'è un museo nel nord di terra, nella parte nord appunto, che racconta una parte del museo anche questi omicidi mirati e oltretutto questi attacchi statunitensi, israeliani, questo sentirsi minacciati che poi in realtà viene anche utilizzato a scopo propagandistico per mantenere al potere in Iran gli estremisti. Ora, l'Iran è un paese, non è la Svezia e non confina con la Finlandia o la Norvegia, è un paese che confina con l'Afghanistan e con l'Iraq per intendersi, io dico sempre non si può fare ragionamenti sui paesi in base a criteri democratici, pseudo democratici occidentali, ma esiste la storia, esistono i confini, esistono le realtà culturali, religiose e compagnia cantante, ma ci sono molte persone contrarie appunto al regime degli Ayatollah, chiamiamano in questo modo in Iran, soprattutto i giovani, però non c'è nessuno disposto a fare la fine dell'Afghanistan dell'Iraq, dunque quando vengono presentati e sono reali gli attacchi, le provocazioni da parte israeliana e statunitense, soprattutto verso l'Iran, questo cementa la pubblica opinione iraniana e supporta addirittura quello che possiamo chiamare l'estremismo politico, c'è differenza tra Raisi e Rouhani per intenderci, posto che quella è una repubblica islamica, piaccia o non piaccia, ognuno ha le regole e il modus vivendi, operandi che ritiene opportuno, poi ci sarà evidentemente l'opportunità per la pubblica opinione iraniana di cambiare il corso della propria storia, ma è sempre bene ragionare in questo modo, altrimenti la comunicazione che ci viene portata è l'Iran è asse del male, la Siria è asse del male, la Venezuela è asse del male, la Russia è asse del male e magari un domani la Cina è asse del male, punto. Quindi tutto quello che fanno loro fa schifo e tutto quello che fa l'Occidente lo fa in nome della libertà. Ti voglio dare questi elementi perché sono cose che come te io ho studiato per tanti anni, scusa l'interruzione. No, figurati, io direi che se poi parliamo del Mar Rosso la situazione diventa ancora più tragica perché che cosa sta accadendo? Intanto vorrei riportare correttamente i fatti perché ho l'impressione che i media italiani non lo stiano facendo per niente, perché la rappresentazione dei media dominanti è che gli uti stiano sparando all'impazzata su qualunque imbarcazione passi attraverso lo stretto di Babel Mandeb, che è questo importantissimo stretto che collega lo Yemen allo Djibouti, largo circa 30 chilometri. In realtà le cose non stanno in questo modo perché gli uti tra l'altro oggi hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale dicendo che tutte le navi possono transitare senza problemi nel Mar Rosso, fatta eccezione per quelle israeliane e per le navi americane che portano agli uti a Israele attraccando peraltro nei porti occupati della Palestina e quindi i media italiani per nascondere il fatto che l'Italia e non soltanto l'Italia e altri paesi stiano entrando in quella guerra a fianco di Israele raccontano tutta un'altra storia e cioè che gli uti stiano sparando su qualunque tipo di imbarcazione e che pertanto sia assolutamente necessario scollegare l'azione degli uti dal conflitto a Gaza perché tutte le imbarcazioni sono in pericolo perché gli uti sostanzialmente sono impazziti. Cioè la rappresentazione degli uti è esattamente quella che i media dominanti in Italia hanno dato di Putin, cioè un pazzo che invade l'Ucraina senza nessun motivo, allo stesso modo gli uti sono dei pazzi che stanno sparando missili nel Mar Rosso senza nessun motivo. In realtà è scoppiata una guerra, dentro questa guerra l'Italia si accinge ad entrare e come sempre accade quando l'Italia entra in guerra, il sistema dell'informazione in Italia essendo completamente corrotto, il sistema dell'informazione in Italia sulla politica internazionale è corrotto come nelle dittature, cioè funziona nello stesso modo, è completamente compenetrato dal potere politico, i cosiddetti media dominanti che operazioni fanno? Utilizzano la parola pace per dare copertura alle missioni di guerra dell'Italia e rappresentano i fatti in maniera completamente distorta scollegandoli, come dire, decontestualizzandoli. Quindi quello che gli uti stanno facendo non viene collegato a quello che Israele sta facendo a Gaza e un eventuale intervento dell'Italia e dell'Unione Europea nel Mar Rosso non viene rappresentato correttamente come un intervento in quella guerra a fianco di Israele. Questa rappresentazione dei fatti diventa corretta nella misura in cui noi riusciamo a capire che gli uti sparano soltanto sulle barche israeliane e sulle navi americane che portano gli uti a Israele attraccandone i porti della Palestina occupata. Questa purtroppo è una storia molto triste, la storia del modo in cui l'articolo 11 della Costituzione italiana venga violato ormai costantemente da quasi tutti i governi da quando è crollato il muro di Berlino fino ad oggi, perché gli Stati Uniti si sono trovati nella condizione di potersi espandere enormemente o sotto la copertura della Nato o sotto varie altre coperture e quindi l'Italia si è trovata a subire una serie di pressioni a partecipare a questo progetto di espansione. Siccome l'Italia non può partecipare alle guerre per dirimere le controverse internazionali, deve con l'aiuto fondamentale e indispensabile dei corrottissimi media dominanti in Italia distorcere completamente i fatti, distorcere completamente l'informazione per nascondere il fatto che i governi italiani violino costantemente l'articolo 11 della Costituzione. Quindi come dovrebbero essere rappresentati correttamente i fatti? In questo modo gli uti non sparano su tutte le imbarcazioni, lo hanno dichiarato ufficialmente, i dati che provengono dal Mar Rosso confermano. Ciò non è vero che gli uti stiano sparando su qualunque tipo di imbarcazione, sparano perché sono entrati in questo conflitto, in questa guerra, e sparano a protezione dei palestinesi, perché gli uti hanno in mente la seguente strategia, quindi vedete tutt'altro che pazzi, tutt'altro che irrazionali, perseguono un disegno strategico ben preciso, qual è? Rendendo pericolosa la navigazione nel Mar Rosso, gli uti ambiscono a ottenere un innalzamento delle polizze, delle polizze, un innalzamento delle polizze assicurative delle navi che transitano in quell'area. Se il prezzo delle assicurazioni aumenta e sta già aumentando in una maniera vertiginosa, aumenta inevitabilmente anche il prezzo del petrolio e di tantissimi altri beni che devono transitare attraverso lo stretto di Babel-Mandeb, perché tutti quanti scaricano i costi sull'anello più debole della catena. Quindi le compagnie assicurative scaricano la crescita del rischio sulle compagnie navali, le compagnie marittime scaricano i costi della polizze assicurativa arrivati fino alle stelle su coloro a cui vendono i loro prodotti e così via. Alla fine chi soffre? Colui che essendo l'ultimo anello della catena non può scaricare l'aumento del costo su nessuno, cioè il disoccupato che fa il pieno di benzina, perché il disoccupato che fa il pieno di benzina non può scaricare questa catena di aumenti in cui ognuno scarica sull'altro su nessun altro, perché è il più debole di tutti e perché anche soltanto una persona che abbia una pizzeria già è nella condizione di poter scaricare in minima parte, perché poi chiaramente i nostri piccoli imprenditori vengono massacrati massacrati da tutte queste strategie occidentali, dall'inflazione, ricordiamo che l'inflazione è un aumento generalizzato del prezzo dei beni e una delle cause principali dell'inflazione è l'aumento del costo dell'energia, in particolare del petrolio. Però in qualche modo chi magari ha una piccola attività può alzare i prezzi, ti fa pagare un po' di più la pizza, ma il disoccupato o la persona che vive sotto la soglia di povertà e che quindi ha un reddito bassissimo, si viene semplicemente massacrato e non difeso da nessuno. A questo punto il governo italiano interviene spendendo soldi nostri, dello Stato, quindi impoverendo lo Stato, con una serie di interventi per contenere il costo della benzina, ma comunque è un impoverimento per tutti gli italiani, cioè la coperta è corta, se il governo Meloni spende molti soldi per impedire che un litro di benzina costi 5 euro, sono comunque soldi che poi vengono sottratti agli ospedali, alle scuole, ai poveri, al reddito di cittadinanza che non c'è più e così via. Perciò a questo punto gli uti dicono, se noi riusciamo a portare a casa questo risultato, le prospettive per le compagnie marittime sono due, o devono pagare tantissimo di assicurazione, cosa che stanno facendo, oppure devono rinunciare a passare attraverso lo stretto di Babel Mandeb e circunnavigare tutta l'Africa, quindi fare un giro spaventosamente lungo, passando per Capo di Buona Speranza, quindi fondamentalmente passando per il Sud Africa, circunnavigando tutta l'Africa, per arrivare poi a destinazione, per arrivare nel Mediterraneo, chiaramente passando per lo stretto di Babel Mandeb, arriverebbero in un attimo attraverso il canale di Suez, dove poi ci sono le raffinerie del petrolio e molto altro. Perciò gli UTI non sono pazzi, non sono irrazionali, perseguono un disegno che in parte sta già funzionando, perché qualcuno scherzosamente mi ha anche un po' fatto ridere questa battuta, e dice auguri per la serie UTI non riusciranno mai in questa impresa, ma in realtà in parte ci stanno già riuscendo, perché a causa degli UTI le polizie assicurative sono arrivate alle stelle, e con tutta una serie di conseguenze negative sulle nostre economie, tu hai fatto benissimo peraltro a ricordare che nel frattempo l'Unione Europea è in recessione, la Germania è in recessione, e che tra l'altro gli studi degli economisti più accreditati ci dicono che il paese dell'Unione Europea che soffrirà di più a causa della recessione tedesca sarà proprio l'Italia. Infatti ricordo che quando scoppiò la guerra in Ucraina, io invocai, chiesi al governo Draghi di fare una stima delle conseguenze negative, prevedibili sull'economia italiana, e fui per questo violentemente diffamato e violentemente insultato, e in realtà siccome i media italiani sono corrotti dalla testa a fine piedi, continuano a non fare queste stime, perché nessuno dei principali media italiani ha mai fatto una stima del disastro che è derivato all'economia italiana a causa della guerra con la Russia in Ucraina. Questa è un'ulteriore prova empirica della corruzione totale dei media dominanti in Italia. Dovrebbero fare stime, statistiche, pubblicare tantissimi dati per spiegare come le imprese italiane, i poveri italiani vengano massacrati a causa delle politiche espansive della NATO in Ucraina, ma questo non viene fatto. Faccio l'ultima domanda che abbiamo dieci minuti, sempre a proposito della corruzione etica del sistema mediatico occidentale in generale, anche perché non vengono fatte neanche le stime dei morti ucraini o dei morti che ci sono stati durante la controffensiva. Nei primi mesi di guerra, fino a che si è parlato in Ucraina, suggerisco di rifletterci, morivano soltanto i russi, se ci fate caso, un po' come nei film americani che muoiono soltanto gli avversari o morivano soltanto gli indiani, insomma, è questa roba qui. Ma a proposito di corruzione, in questo momento lo Stato di Israele, lo Stato ebraico, è sotto processo all'AIA, la Tribunale Penale Internazionale, la Corte Internazionale, per genocidio. E a citare in giudizio per genocidio è già una notizia enorme, questa è una notizia enorme, tutto il mondo parla, ci sono paesi, ma non soltanto nel mondo arabo, che mandano in diretta il dibattimento, gli interventi dell'accusa, della difesa, da noi invece si mandano in diretta gli interventi a forum, in altri programmi. E tutto il mondo, comunque un mondo che sta cambiando, perché l'Europa non è più il centro del mondo, in un certo senso gli Stati Uniti sono ancora la forza imperialista più importante, la politica geopolitica dell'Europa Mondiale, ma stanno perdendo. È anche visibile il numero di stati che sono riusciti a portarsi con loro quando hanno votato più volte nelle risoluzioni delle Nazioni Unite contro il cessato del fuoco a Gaza. Ecco, qui è l'articolo, credo che sono le 24 ore, sulla recessione in Germania del 2023, veramente un anno nero per l'economia tedesca, ma era abbastanza ipotizzabile. L'industria tedesca e lo sviluppo di industria tedesca è estremamente legata anche all'acquisto di gas di ottima qualità e a buon mercato attraverso i gasdotti nel Baltico proveniente dalla Russia. La strategia, sapete com'è andata, che ha vantaggiato la vendita di gas liquidi da parte statunitense, appunto la strategia rispetto alla guerra in Ucraina, però stavamo ora parlando di Gaza e di questa notizia enorme che passa in silenzio. Cioè lo Stato di Israele è a giudizio per genocidio e aver citato in giudizio lo Stato ebraico non è stato né un paese musulmano, né un paese europeo, ma appunto il Sudafrica è un paese che per me ci dà una grande lezione di coraggio grazie a Sudafrica per questa azione importantissima, un paese che ha conosciuto l'Apartheid, che ha sconfitto l'Apartheid, è stato guidato da un Presidente, un grande uomo come Nelson Mandela. A Ramallah, nei territori occupati, in Cisjordania c'è una statua di Nelson Mandela e quando è iniziato il processo appunto a carico di Israele per genocidio, tanti palestinesi sono andati con le bandiere palestinese alla statua di Nelson Mandela a Ramallah per ringraziare appunto il Sudafrica, un paese che poi non fa parte, fino a oggi, poi vedremo domani, dell'asse del male, un paese, come dire, capitalista africano, chiamiamolo in questo modo, che ha ospitato i mondiali di calcio con ottime relazioni internazionali, che fa parte chiaramente dei BRICS, che oggi sta dimostrando un'indipendenza politica ad una visione, anche un interesse ai diritti umani impensabile appunto per la vecchia Europa sempre più in crisi economica, militare, finanziaria, ma soprattutto valoriale. Abbiamo gli ultimi per te sei minuti, Alessandro poi ci salutiamo, quindi te la parola rispetto a questa notizia tenuta nascosta volutamente, data ma poi che è passata in secondo piano nel sistema mediatico occidentale, italiano in particolare. Ma intanto mi associo a quello che hai detto, nel senso che vorrei esprimere anche io la mia gratitudine al Sudafrica per quello che sta facendo, perché è un paese che consente di credere ancora nella politica. Per quanto riguarda le prove empiriche della corruzione del sistema dell'informazione in Italia, queste sono auto-evidenti, alcuni mi chiedono, professore, ci dia un'altra prova? È molto semplice, basti semplicemente notare che i principali quotidiani italiani, le trasmissioni radiofoniche, le trasmissioni televisive, insomma il sistema dell'informazione, l'informazione dominante, non ha mai condannato Israele per i crimini contro l'umanità a Gaza che non hanno precedenti nemmeno nella Seconda Guerra Mondiale, pare, perché un bombardamento così intenso e pervasivo, così distruttivo, contro una città fatte le giuste proporzioni, non è esistito nemmeno durante la Seconda Guerra Mondiale. E il fatto che i media italiani non condannino Israele come hanno condannato la Russia è la prova certa, inconfutabile, che il sistema dell'informazione in Italia è completamente corrotto, perché è un sistema dell'informazione, è un'informazione completamente guidato, cioè direttamente guidato, dal potere politico. Quanto al processo? Il processo, il Sud Africa ha presentato la sua accusa a martedì scorso, Israele si è difesa tre giorni dopo, venerdì scorso, e anche qui un'altra prova empirica della corruzione del sistema dell'informazione è che i media occidentali hanno dato una copertura enorme alla difesa di Israele e praticamente nessuna copertura all'accusa del Sud Africa. Israele in quel processo si trova in una condizione disperata, direi, perché il Sud Africa ha presentato 84 pagine di prove schiaccianti contro Israele e Netanyahu, conscio di ciò, ha dato ordine di non difendere Israele negando i fatti, ma giocandosi la carta dell'Olocausto. Infatti la difesa israeliana, quando venerdì è iniziato la difesa israeliana, la prima cosa che è stata fatta è giocare la carta dell'Olocausto. E l'argomento assolutamente illogico e assolutamente senza senso è stato questo. Siccome Israele ha subito l'Olocausto, è impossibile che stia compiendo un genocidio a Gaza, che ti dà l'idea dell'assurdità della difesa israeliana. Poi Israele si è difesa sostanzialmente utilizzando un atto d'accusa contro Hamas durante il processo, ma anche questa è una difesa davvero ridicola, perché questo non è un processo contro Hamas, questo è un processo per verificare se Israele stia compiendo un genocidio a Gaza. Quindi se tu ascolti tutto il dibattimento, se ascolti gli interventi della difesa di Israele, c'è da mettersi le mani nei capelli per quanto siano grotteschi, ridicoli, completamente insensati, illogici. un imbarazzo totale. E tra le altre cose la convenzione dell'ONU relativa al delitto di genocidio, quindi la convenzione che punisce il delitto di genocidio, e agli articoli 2 e 3, che poi sono quelli fondamentali per comprendere questo processo e il mio discorso, dicono molto chiaramente che quel tribunale, la Corte Internazionale di Giustizia, dell'ONU, non condanna soltanto il genocidio, condanna anche il tentativo di genocidio e condanna i complici nel genocidio. Infatti il Sudafrica non sta intentando questo processo, non ha presentato questa causa contro Israele per genocidio, ma per tentato genocidio, perché il Sudafrica sostiene, e questo chiaramente proviede da tutti i dati sul campo, che Israele stia sterminando una parte significativa della popolazione palestinese a Gaza, e il fatto che Israele non neghi massacri, dice tutto sulla difficoltà di Israele. A questo punto, che cosa potrebbe fare la Corte di Giustizia Internazionale dell'ONU? Fondamentalmente può fare due cose dal punto di vista tecnico, o emette quella che si chiama una sentenza motivata, ma generalmente questa richiede un periodo che oscilla tra i 4 e i 6 anni, quindi molto tempo, oppure un parere immediato a queste due opzioni davanti a sé. Secondo me, chiaramente può fare entrambe le cose, ma dovrebbe optare per un parere immediato, anche perché è ciò a cui il Sudafrica ambisce, il Sudafrica si rende conto che nessuno vuole intervenire in favore di Gaza, nell'Unione Europea, negli Stati Uniti, l'ONU vorrebbe intervenire, ma gli Stati Uniti pongono il veto a qualunque azione punitiva nei confronti di Israele, o a qualunque azione dissuasiva nei confronti di Israele, e quindi gli UTI stanno utilizzando questa strategia nel Mar Rosso per aiutare i palestinesi, quindi qualcuno mi ha criticato dicendo ah, non è vero, è una vergogna dire che gli UTI stiano colpendo nel Mar Rosso perché vogliono aiutare i palestinesi. No, è un dato della realtà. Gli UTI stanno facendo quello che fanno per aiutare i palestinesi. Il Sudafrica invece sta cercando un'altra strategia che è quella di ottenere, a mio giudizio, questa è la strategia, un parere immediato di condanna di Israele. Il problema è che poi non ci faremmo niente contro questo parere immediato. Perché? L'ONU potrebbe implementarlo, potrebbe ottenere la sua applicazione soltanto attraverso l'intervento del Consiglio di Sicurezza dell'ONU dove gli Stati Uniti porrebbero il veto e come tu dicevi giustamente se poi fosse Trump a vincere le elezioni la condizione dei palestinesi precipiterebbe ancora di più verso il basso perché secondo me conoscendo almeno le politiche che Trump ha fatto perché chiaramente possa essere smentito, ci possono essere nuove circostanze, nuovi fattori per cui Trump decide di modificare la sua linea politica verso i palestinesi ma nei quattro anni in cui è stato presidente Trump i palestinesi li ha soltanto massacrati dal punto di vista politico e non indugo, diciamo non mi profondo in dettagli per motivi di tempo e non ultimo il trasferimento dell'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme senza nessuna contropartita per i palestinesi. Ho fatto gravissimo, un abuso gravissimo, un'ingiustizia gravissima perché storicamente gli Stati Uniti hanno sempre mantenuto l'ambasciata a Tel Aviv proprio nella speranza di poter ottenere qualcosa in cambio per i palestinesi da parte di Israele. per la serie ok, noi trasferiamo l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme quindi riconoscendo di fatto Gerusalemme e che dicevi Alessandro? Siamo proprio in chiusura. Ok, ok, va bene. Allora niente Alessandro io ti ringrazio moltissimo di questo... No, io ti ringrazio te e ricordo a tutti che Alessandro Rossini è direttore di un sito di analisi e geopolitica che si chiama sicurezza internazionale punto com e trovate molte informazioni e gestisce un canale YouTube come questo e ti ringrazio perché cerchiamo sempre di fornire degli elementi quello che diciamo noi o che sosteniamo non è il Vangelo è una visione però studiamo molto per arrivare a dire determinate cose gradiremmo che lo stesso studio ci fosse anche nelle televisioni e sui giornali italiani grazie a tutti e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti